Oggi il nuovo video parte direttamente da qui, da Verbicaro, in provincia di Cosenza, dove con un gruppo di amici con la quale condivido la passione per la Fiat Panda 4x4, vi porterò tutti virtualmente con me perché daremo via a una nuova, mega ed unica, scampagnata 2023. Siamo davvero in tanti, ma come ben sapete, più siamo e meglio stiamo. Guida impegnativa oggi ragazzi, guardate dove vi sto portando, nel bel mezzo del parco del Follino, siamo a Verbicaro in montagna per questa mega, mega galattica scampagnata. Pensate che siamo circa 60 persone a bordo di una trentina di Fiat Panda. E a leggere i vostri commenti delle precedenti uscite, queste scampagnate vi piacciono davvero tanto. Pertanto oggi ve ne mostro una davvero grande. Dopo circa due ore siamo arrivati qui, in mezzo a questo verde sconfinato e aria pulita, proprio in questo buco qui sotto. Ci siamo noi, circa 30 Fiat Panda che abbiamo parcheggiato l'una accanto all'altra. Giù alla marina il caldo era davvero troppo, ma qui nonostante il sole, l'aria è tutt'altra cosa. Fresca, pulita e genuina. Il tempo di scaricare le macchine e ci organizziamo per dar via ad un brazzo super gustoso e soprattutto genuino. Questa è la baita che abbiamo a disposizione e noi ci disporremo accanto sotto questo bel fresco. Io mi occupo della preparazione del primo piatto, ma ognuno di noi ha il suo compito e ognuno di noi collabora per la riuscita di questo evento. E dopo pochi minuti siamo già operativi. Pertanto già inizio con la preparazione del sugo e verso la giusta quantità di olio extravergine di oliva. Intanto c'è qualcuno che già inizia ad affettare soppressata e la passa a tutti in modo da fare questo piccolo aperitivo. Ho già tritato l'aglio e inizio a farlo soffriggere. Farò un bel sughetto profumato con i nostri pelati, così andiamo a fare circa 3 kg di pasta per una volta e se necessario la rifaremo ancora. Pino intanto versa i pelati, continuiamo a farli cuocere. Abbiamo già delle belle foglie di basilico pronte e non appena i pelati si ammorbidiscono inizio a schiacciarli, così da tirar fuori tutto il dolce. E intanto continuano a viziarmi costantemente. Contestualmente, nello stesso momento, un gruppo di amici inizia a pelare una cassetta di profumatissime pesche. Queste pesche poi verranno inondate di vino rosso di Verbicaro e poi a fine pasto belle fresche le gusteremo come Macedonia. Questa è una preparazione che in Calabria e un po' in sud Italia si fa spesso. Le pesche poi assorbiranno il vino e avranno un gusto davvero speciale. Poi con questo vino in particolare saranno ancora più buone. Questa è un'operazione che si fa subito perché ci vuole un po' di tempo per lasciarle in infusione nel vino affinché i gusti e i sapori si mescolano insieme e poi saranno ancora più buone. Quest'altro gruppetto di signore invece sta tritando pomodorini di ogni tipo per preparare delle bruschette. Ovviamente le bruschette fatte con pane casereccio freschissimo e profumatissimo di grano. Pino condisce il pomodoro, origano, aglio e tanto olio extravergine di oliva. Qui ci sono tre tipi di pomodorini, gialli, neri e rossi e poi tanta cipolla tagliate finemente, ovviamente rossa dolce. Il sugo comincia a borbottare. Io vado già a spezzettare del basilico fresco al momento e il profumo intanto sale per tutta la montagna. Stiamo facendo l'insalata. Nessuno se ne sta con le mani in mano, questo è il vero spirito di gruppo, la collaborazione tutti verso un intento. Ed intanto subito dopo mezzogiorno già il sugo è pronto e posso calare i primi tre chilogrammi di pennette rigate, trafilate al bronzo che farò risottare nel mega padellone. Cosicché l'amido rilasciato rimane nella padella e la pasta è più gustosa. L'insalata è pronta, quasi pronta. Mentre la pasta è in cottura si sta già pulendo la pietra lavica per la cottura della carne. E vedete le pennette in dieci minuti sono pronti. Adesso una bella spolverata di prezzemolo fresco tagliuzzato al momento e andiamo via con l'impiattamento. Tutti a valanga per questa prima pennetta di oggi. Visto che siamo in tanti non possiamo farle piccanti perché ci sono bambini e non tutti lo gradiscono. Però a tavola ci sarà tanto peperoncino, formaggio per soddisfare i gusti di tutti. E via con gli impiattamenti e vediamo se sarà gradita. Ottima pasta, buonissima. Complimenti a Svizio di Calabria. Io continuo a mangiare. Una delizia. Beh, devo dire che dagli sguardi e da come la mangiano con gusto pare proprio che sia piaciuta. Però fatemi sapere anche voi nei commenti se secondo voi meritava o no questa pennetta. Intanto continuiamo. Buonissima. Eh sì, perché nelle nostre scampagnate non ci si ferma mai. Ci si rilassa e si continua. Signori stiamo affettando la sessata verbica rese calaprese. Guardate come esce, guardate che roba. Ed ovviamente i salumi sfizi di Calabria non possono mancare. Capocollo, soppressata, accoppiati con pane croccante, casereccio e vino, vi lascio immaginare. E soprattutto perché siamo in montagna il gusto è davvero diverso. Nelle nostre uscite in genere non portiamo mai cibo già pronto. Proprio perché ci piace prepararlo al momento e ci piace anche coinvolgere tutti, grandi e più piccoli. E se a questo punto del video starai pensando che in questa scampagnata c'è davvero tutto ma manca soltanto la musica, beh, ti sbagli perché siamo dotati di ottimi musicisti. 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 E questa tarantella era tutta per voi. Intanto il ballo ragazzi mette appetito, pertanto si procede a calare la seconda padellata da 3 kg di pennette. Però questa volta ad almeno una parte delle pennette faremo una piccola modifica. E ora un po' di ballo anche per la padella. musicisti. 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 Ragazzi ma voi dovete capire che la cosa bella di queste scampagnate non è soltanto l'enorme quantità di buon cibo, ma è l'ossigeno che porti al cervello, il rilassamento totale. anche perché qui per fortuna i cellulari non prendono, non c'è rete, pertanto l'unica cosa che puoi fare è divertirti con gli altri, mangiare e condividere come si condivideva una volta, non con un tasto ma guardandosi negli occhi. che pare che è una cosa che si stia abbastanza perdendo e la modifica che abbiamo fatto è proprio quello di aggiungere ad una parte di pennette del buon peperoncino calabrese. Come dice il nostro amico Giancarlo, mai senza, ci arrangiamo con una piccola pennetta in stile calabrese. Abbiamo anche l'amico Pino, sempre presente. Buon appetito a tutti e iscrivetevi al Club della Panda. Che spettacolo, in montagna al fresco, al fresco e al tempo di musica, musica calabrese dedicata a tutti voi. Come avete visto, cari amici, il bello di questo gruppo così unito è che ci sono davvero persone di ogni età. Ed è bello soprattutto vedere che i giovani continuano a partecipare e a voler mantenere le nostre tradizioni. Intanto si pensa già alla ciccia. Abbiamo la pancetta, le bistecchine, tutto di suino e viene insaporita con salvia e rosmarino e olio. Due mesi di dieta, abbiamo perso la bellezza di 150 euro. Ma quale dieta, cari amici? Ma ditemi voi, chi resisterebbe con tutto questo ben di Dio? Soprattutto in estate e soprattutto in Calabria è impossibile mantenere la linea perché ci sono tante di quelle cose buone che fanno gola che davvero l'ultima cosa alla quale si pensa è proprio la dieta. Magari ci pensiamo poi a ottobre e novembre prima di Natale così saremo belli in linea proprio per sfondarci nel periodo natalizio. Ed intanto su questa bella pietra lavica rovente la carne è già pronta. Guardate che spettacolo. Non potete sentirne il profumo ma parla davvero da sola. Soprattutto questi pezzi di carne con la giusta quantità di grasso che abbiamo lasciato prima a marinare per farla bene insaporire ha preso un profumo davvero squisito. Ma davvero ragazzi, tutte le cose che mangiate qui in montagna assumono un gusto particolare. E amma questa bella fettona di carne sul pane casereccio che è già assorbito i succhi della carne è qualcosa di strepitoso. Vedete il pezzettino di pancetta qui con la cotenna e davvero piace a tutti. Una cosa esquisita. Questo gruppo di cui mi onoro di far parte si chiama i pandisti del pollino. Come vi dicevo prima abbiamo messo insieme la nostra passione di questa piccola utilitaria tutta made in Italy ma soprattutto la passione dello star insieme della natura, del buon cibo e soprattutto della nostra amata Calabria. Si sono fatte circa le 18 ed è il momento giusto per assaporare queste deliziose pesche nel vino di Verbicaro. Ragazzi vi ricordo che Verbicaro è il paese del buon vino. Le abbiamo messe in fresco già da stamattina come avete visto nelle fasi iniziali del vino a questo punto il vino ha ceduto la sua parte alcolica alle pesche e amm sono strepitose freschissime ma se vi capita di assaggiarle state attenti perché davvero davvero è facile che vi diano alla testa e si continua ancora con la frutta guardate che anguri abbiamo in Calabria che colore e che dolcezza sono dolci quanto i calabresi cari amici colgo l'occasione per dedicare questo video fatto all'aria aperta soprattutto a tutti gli emigranti che mi seguono tanti sono proprio della bella Verbicaro vi dedico questo video perché so benissimo quando voi tenete alle tradizioni ma soprattutto vedere tanta gente così insieme che si vuole bene che sta bene nel condividere queste magnifiche giornate sono sicuro che porterà il buon umore anche a voi e via con il caffè nella moca non nelle macchinette elettriche ringraziamo tutte le signore del gruppo che hanno fatto questi buonissimi dolci caserecci fatti a mano un bel caffè una grappa frutta ed un applauso alle signore del gruppo ma cosa si può desiderare di più di una giornata di questa ti allunga la vita almeno di dieci anni voglio sapere se vi piacerebbe essere con noi anche a voi ciao ragazzi è un piacere stare con Gianluca mi raccomando seguiti perché è un grandissimo amico è un grandissimo chef vi invito a tutti in Calabria a provare le sue delizie non solo a mare pure in montagna in montagna specialmente mare no ma in montagna specialmente che il mangiare e la roba è molto genuino in montagna vi amo tutti e mi raccomando seguite Gianluca ciao ragazzi e insieme al mio personale saluto cari amici vi mando il saluto anche di tutto il gruppo dei pandisti del Pollino mi invito a venire in Calabria e io intanto scendo di nuovo a mare grazie a tutti